invito il direttore Massimo Mamoli, direttore dell'Arena Brescioggi, Gazzetta di Mantova, che dialogherà insieme all'Onorevole Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato per la Cultura e ci parleranno appunto, dicevo, del valore aggiunto, della creatività. Benvenuto, grazie per essere qua con noi. Direttore, vi lascio parlare di questo bel argomento. Buongiorno. Grazie a tutti. Allora, passiamo, sottosegretario Mazzi, dall'epidemia della solitudine, è un tema chiaramente molto impegnativo, ha le trifasi dell'età, ha il fatto che imparare non ha età, chiaramente ha il valore della creatività. Cambiamo chiaramente, assolutamente tema. Innanzitutto, noi ci diamo del tu fuori da questo ambito, ma lei, insomma, è sottosegretario della Cultura, per cui le darei del lei, se non le dispiace. Va bene, proverò a impegnarmi a darle del lei, allora, per una volta. Allora, no, evidentemente la creatività ha a che fare con il talento. Il nostro paese è un pozzo di talenti che non sempre emergono, un po' perché se ne identichiamo, pensate che ho appena scoperto, magari una cosa che pochissimi sanno, che a inventare il metro, che misura il tempo, ma di conseguenza anche lo spazio, è un Veneto. Si chiamava Tito Burattini, e nel Seicento ha attraversato l'Italia, un po' d'Africa, ed è morto in Lituania, e ha inventato quello che un po' ha cambiato la misurazione del tempo, dello spazio e anche del tempo. Però noi non lo sapevamo, come non sappiamo tante altre cose, come molto spesso abbiamo dei talenti davanti e non li sappiamo riconoscere. Allora, io poco fa ho chiesto all'intelligente artificiale di impersonarsi nel sottosegretario Mazzi, e ho chiesto al Mazzi che appare, diciamo, nell'infosfera, dica, sottosegretario, che cos'è per lei il talento? E l'intelligente artificiale per lei, impersonandoci nel sottosegretario Mazzi, risponde, il talento è la professione innata che una persona può avere per eccellere. È importante che le persone che hanno dei talenti non si perdano, è un dovere della società, e anche mio come sottosegretario, valorizzarli. Ma il vero Mazzi che cosa risponde? Il vero Mazzi si spaventa di fronte a questa dichiarazione dell'intelligenza artificiale, perché devo dire che avrei risposto così. È una risposta perfetta, che non so se sia, come dire, una conferma della mia intelligenza o del pericolo dell'intelligenza artificiale, perché la risposta è perfetta. Anch'io credo che sia questo il talento. Io ho avuto la fortuna di frequentare un ambiente, tuttora probabilmente lo frequento, però prima di assumere questo incarico ho frequentato un ambiente che era proprio basato sul talento. Ho avuto l'opportunità di conoscere tantissime persone di grandissimo talento e anche molto riconosciuto, diciamo, a livello globale. Cito Dario Fo, ad esempio, con cui ho avuto una collaborazione. E devo dire che quello che ho imparato, credo di aver imparato, è che il talento, non so se vi ricordate una volta, c'era una pubblicità che diceva che la velocità senza controllo è nulla. E io credo che anche il talento senza controllo è nullo. Cioè il talento puro è molto importante, è una componente fondamentale, secondo me, dell'uomo. Perché poi credo che tutti possiamo avere dei talenti, anche magari in quantità diversa. Cioè uno può avere un talento di un certo livello, un altro può avere un talento di un altro livello. Però poi quello che è fondamentale è che ci sia la capacità di individuarlo, proprio anche una capacità personale di individuarlo. E non è la stessa cosa, ad esempio, a volte individuare il talento in una persona che tu hai di fronte o in te stesso. Anche quello è un passaggio non semplice. E poi lo devi saper coltivare il talento, perché io ecco, la mia esperienza mi dice che è un po' come l'ispirazione il talento. Cioè questo è un mito dell'ispirazione. Io tutti gli artisti, per esempio, della musica che ho incontrato, uno su tutti, che era Ennio Morricone, mi ha sempre detto che l'ispirazione in realtà è un qualcosa di astratto, che ha bisogno che tu crei le condizioni perché arrivi l'ispirazione. Cioè non è che arriva così. Nella convenzione comune è che gli artisti considerano l'ispirazione come una specie di raggio che a un certo punto gli illumina, invece non è così e a volte per arrivare a una condizione di ispirazione un artista magari trascorre giornate interi al pianoforte come faceva Morricone e come fanno tantissimi artisti. Poi arriva un momento dove hai lavorato 20 ore e magari 10 secondi di quelle 20 ore sono un risultato straordinario e magari viene fuori, che ne so, una musica pazzesca, The Mission, ecco. Però hai creato le condizioni per cui il talento senza il lavoro, diciamo, alla fine rischia di non bastare. E per chiudere questa parte dico anche una cosa, che nel tempo mi sono sempre, perché io cerco sempre poi alla fine di sintetizzare e di fissare un concetto nella testa, questo può servire magari ai più giovani, una persona che ha talento 100 e determinazione 50 perde rispetto a una persona che ha talento 50 e determinazione 50. E arriviamo infatti al punto, il tema della determinazione, qua stiamo parlando anche di molti giovani. Allora Seneca diceva che non esiste evento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quando lei era ragazzo, quando lei era giovane, aveva già in testa quale direzione avrebbe preso? Ecco, io devo essere sincero, non ce l'avevo. E a volte oggi vedendo alcune personalità, alcune figure, alcuni che ottengono dei risultati straordinari e che vedo che hanno una concentrazione, una determinazione e una volontà e una conoscenza di dove vogliono arrivare, a volte mi riguardo indietro e dico forse quello mi è mancato, perché sono sempre stata una persona talmente curiosa e con talmente tanti interessi che alla fine seguivo un po' tutti, diciamo. Il fatto anche di non, magari di non avere, quasi volevo non avere una direzione, perché mi piaceva provare a misurarmi in molti ambiti. Questo non sempre ti porta, diciamo, al successo, chiamiamolo così, ammesso che poi il successo sia l'obiettivo. Perché poi vedi invece delle persone che arrivano ad ottenere dei risultati straordinari che vedi che dedicano quasi tutta la loro vita. Adesso io sono colpito, ad esempio, lo cito perché è un personaggio che in questo momento è straamato, che è il tennista, che è Yannick Sinner, che è un tennista che insomma tutta l'Italia adora in questo momento e che ha, ecco, se uno studia la storia di quel tennista si capisce che lui fa dei passaggi nella sua vita, lui lo dice anche, io dedico tutta la mia vita a quello, c'è un'intervista di lui a 17 anni che dice che gli chiedono a 17 anni, se la vedete sulla rete fa quasi impressione, perché è un ragazzino di 17 anni già conosciuto nel suo ambiente, però in un campo di tennis probabilmente della sua terra, immagino, che è l'Alto Adige, dove quando il giornalista gli chiede qual è il suo sogno, lui senza esitazione e anche con una certa serietà, a 17 anni, dice il mio sogno è diventare il numero uno del tennis mondiale. Ecco, quando vedo queste persone dico c'è chi ha più determinazione nella vita. Poi, come dire, mi assolvo perché dico ho fatto tante cose, forse alla fine ho vissuto anche tante vite e va bene anche così. Anche qui vorrei chiudere con una piccolissima morale, è sempre il concetto del piano A e del piano B. Allora, chi fa una scelta come la mia, cioè di farsi un po' condurre dalla vita, vuol dire che ha un piano A, perché comunque a un certo punto il piano c'è stato, però pensa sempre a un piano B, a un piano C, come dire, se quella mi va male, poi però ho un'altra soluzione. Invece ci sono delle persone che rischiano, diciamo, un unico piano, che non hanno piani di recupero e che magari arrivano comunque a dei risultati pazzeschi. Lei prima, minutemente, ha citato un'icona sportiva. C'è un altro tema che riguarda, che secondo me è proprio un vizio anche tutto italiano, non solo dei giovani, la paura dell'errore, la paura del fallimento. L'abbiamo visto, per esempio, la lezione di Jacobs ai mondiali di atletica, ma questo succede anche ai grandi della musica, dell'arte. Ecco, perché secondo lei nel nostro paese c'è questa paura dell'errore e del fallimento? E quale dovrebbe essere invece il valore che dovremmo dare al termine errore e fallimento? Penso soprattutto ai ragazzi e ai giovani. Sì, ha detto bene, perché io in realtà considero che l'errore e il fallimento in realtà siano tappe di un cammino di progressione. Cioè io non le vedo come... non è giusto. Ci sono tante culture dove anche il fallimento, proprio per esempio della cultura anglosassone-americana, il fallimento, cioè il fatto che tu faccia un'impresa e la tua impresa fallisca, non è che ti mette una croce addosso, non è che ti marchia per la vita. Anzi, è come dire una tappa, una delle opzioni. Cioè tu decidi di fare un'impresa nella tua vita, puoi avere successo o anche non avere successo. Puoi avere un successo straordinario oppure magari un successo medio, cioè non è che... Però l'errore e il fallimento dovrebbero essere una tappa per progredire. Anche qua, adesso non vorrei annoiare sempre con l'insegnamento che dà quel giovane tennista. Se voi guardate la storia, lui che ha avuto, è chiaramente un fenomeno, questo è evidente, però pensate che quando è stato Juniores, il massimo risultato che ha raggiunto nel ranking mondiale è stato il 121esimo posto. E se voi guardate la sua storia, diciamo sportiva, esordisce in tantissimi tornei all'età di 15-16 anni perdendo, perde tantissimo. Mentre, pensate, io adesso non voglio fare nomi, però ci sono altri tennisti che hanno vinto, c'è anche un tennista italiano, un giovane tennista italiano che oggi si è ritirato, che vinse addirittura tra gli Juniores Wimbledon. Pensate alla differenza, c'è uno che tra gli Juniores vince Wimbledon e poi non riesce neanche a entrare tra i primi 400, al punto tale che lo stress lo spinge a 25 anni a ritirarsi. Mentre l'altro tennista che alla fine arranca, perché in fondo arranca, fa sì che ogni sconfitta, lo dice anche tutte le volte, tra l'altro nelle interviste, dice io imparo più dalle sconfitte che dalle vittorie, perché la sconfitta e l'errore, diciamo, dovrebbe proprio insegnarti questo, secondo me è questo. Poi dico anche una cosa, che forse non dovremmo vivere con solo l'obiettivo di vincere, perché anche il livello delle aspettative, poi ci crea, lo dico io, che ho sempre vissuto con ansia, perché mi sono sempre dato degli obiettivi, come si dice, delle asticelle alte, però tutto sommato è più importante stare bene con se stessi e fare qualcosa che piace, è più importante che non raggiungere il traguardo massimo in quello che piace. Una volta io pensavo che fosse giusto questo e forse magari mi è servito anche da spinta, però oggi, devo dire, con la saggezza dei miei anni, penso che uno deve fare quello che gli piace e avere un livello di aspettative, diciamo, giusto, che non gli renda la vita troppo ansiosa. Stare bene con se stessi è un temone. Allora, parliamo per esempio del disagio giovanile dalla Francia, dove è esploso in maniera molto distruttiva, l'abbiamo visto adesso anche con Crepol, ma all'Italia, insomma, i sociologhi parlano della generazione della rinuncia, cioè trasfiducia, parole non dette, insomma una narrazione che però noi dobbiamo in qualche maniera contraddire, da cui dobbiamo assolutamente uscire. Ma lo chiedo a lei che non solo si occupa di cultura, ma anche un uomo, un grande comunicatore, qual è l'exity strategy? Come sfuggire, come uscire da questa narrazione? È una domanda difficile questa. Io tra l'altro devo dire che rispetto al disagio giovanile ho sempre frequentato i giovani, perché venendo dal mondo della musica, il mondo della musica, la comunità di cui ho sempre fatto parte, tuttora faccio parte, è una comunità dove c'è una forte presenza di giovani, diciamo. Io addirittura dico che è quasi uno dei centri di formazione, proprio nel cammino di un giovane, perché uno ha la famiglia, può avere la scuola, poi hai gli amici e con gli amici che cosa fai? Fai sport, fai musica, vai ai concerti, quindi è un ambito molto importante, molto frequentato dai giovani. Allora io dico, qui rischio di essere retorico e magari di dire dei luoghi comuni, perché poi quando si diventa, non si è più giovani, e si tende a guardare sempre dall'esterno, parli sempre del tempo passato e non riesci a essere proprio contemporaneo. Però devo dire che oggi credo che il problema più grosso sia un po' il disorientamento, cioè il mondo si è fatto molto chiassoso. Io a volte cerco di pensare, dico, io sono sempre stato uno abbastanza deciso, diciamo, nella mia vita, però ripensando, dico, quando ero ragazzo, le opzioni che avevi davanti erano, le potevi contare, cioè dicevi, faccio questo, faccio questa scelta. Oggi sei talmente colpito, sei come un bersaglio che è travolto da tutto. Cioè hai una, io penso solo banalmente oggi a questo protagonismo a cui ti spingono i social, al fatto dell'immagine, cioè come impatta su un ragazzo molto giovane, magari di carattere non ancora formato. E' vero, anche alla nostra età, c'era magari il ragazzino a scuola, c'era la ragazzina più bella, il ragazzino meno bello, il ragazzino più grasso, quello più alto, quello con i brufoli, quello senza brufoli, però era un qualcosa che rimaneva nell'ambito della classe. Adesso invece, la cosa ha una dimensione tale che io devo dire che il problema dell'orientamento, proprio del fatto di trovare all'interno di se stessi, interiormente, una strada, un orientamento, non è semplice. Io devo dire che forse non ho la risposta a questa domanda. Io penso che, io adesso per dire ho fatto una cosa, mi viene in mente questo, io ho fatto un piccolo, non un attacco diciamo, però ho detto che ci sono degli artisti, non è un attacco al genere, però ci sono degli artisti della musica trap che hanno dei testi troppo violenti. ho detto questa cosa, ecco, quello per me è, come dire, una prima azione, tra l'altro io voglio parlare con loro, perché voglio dire loro, perché siccome alcuni mi hanno risposto, hanno anche scritto e mi hanno detto per noi la musica è un riscatto, noi non facciamo altro che raccontare la realtà dove viviamo, delle periferie, di questo disagio, e io però ho risposto a loro, adesso li voglio anche incontrare un giorno e voglio dire sì però, il dovere che avete voi come artisti non è quello di raccontare soltanto con un crudo realismo la realtà in cui vivete, dovete anche, perché quello è un compito dell'artista, dovete anche però impegnarvi a cercare di dire parole di speranza, di cambiare quella realtà, per cui adesso mi verrebbe da dire che per esempio in quell'ambito lì l'exit strategy sarebbe quella, cioè di comunicare alle generazioni più giovani anche dei messaggi positivi, anche se la realtà diciamo ti come dire è funesta, tu hai il dovere di reagire, quindi mi verrebbe da dire questo, però la domanda è molto complicata e la risposta è quasi impossibile. Non le chiedo allora come commenta il fatto che è accaduto tra Morgan e Fedez a X fatto perché mi pare che la sua risposta sia abbastanza scontata. Intelligenza artificiale, leggevo qualche sera fa un saggio recente che ha scritto Harry Kissinger dove dice che l'intelligenza artificiale ha rivelato che la realtà può essere conosciuta in modi molto più complessi rispetto a come era stata compresa fino ad ora dagli esseri umani. Nel mondo in cui ti occupi ora come sottosegretario della cultura che è il mondo dell'arte e non solo della musica come entra l'intelligenza artificiale nel valore aggiunto della creatività? L'intelligenza artificiale è un tema complesso perché mi verrebbe da dire con un termine poco elegante che è una bestia che noi non conosciamo ancora. Allora in questo momento devo dire sinceramente che io attenziono di più i pericoli dell'intelligenza artificiale perché se oggi noi ci riflettiamo è il primo caso nella storia dell'umanità quindi di migliaia di anni in cui nasce una tecnologia che non è al servizio dell'uomo ma è alternativa all'uomo e quindi questo è un grandissimo pericolo perché un qualcosa che sostituisce l'uomo diventa pericoloso. Quali sono i pericoli secondo me? Allora il primo pericolo è che come dire milioni di persone nel mondo possano perdere il posto di lavoro perché vado sul pratico anche perché i politici devono cercare di essere pratici anche perché questo rischio è altissimo perché noi non capiamo bene in questo momento i confini dell'intelligenza artificiale e quindi quello è un primo rischio. Un secondo rischio che noi abbiamo già compreso diciamo con tutto l'arrivo delle piattaforme tecnologiche è che si creano le condizioni per una concentrazione di ricchezze smisurate nelle mani di pochissime persone. Io ogni tanto quando incontro le persone dico sempre io vengo da una generazione che non io però i miei compagni amici diciamo di quando ero ragazzo magari anche di una parte politica che non era proprio la mia ma insomma da ragazzi si dialoga con tutti e anche da grandi ancora di più ovviamente cosa facevano? Attaccavano i cosiddetti paesi imperialisti cioè i paesi dove c'era una concentrazione di ricchezza che era a danno dei paesi poveri ecco in quel caso lì il progresso è stato peggio ha peggiorato perché oggi quella concentrazione di ricchezze non è più in capo a dei paesi è in capo a delle persone singole cioè ci sono delle persone al mondo che sono più ricche hanno più ricchezza del pil di un paese povero di un paese povero africano questa è una cosa che secondo me in una logica per cui all'epoca tu attaccavi i paesi imperialisti perché dicevi ci dovrebbe essere una redistribuzione della ricchezza questa è una cosa sconvolgente e la paura è che l'intelligenza artificiale porti ancora più ricchezza nelle mani di pochissime persone e questo è complicato perché oggi diciamo la verità esistono delle aziende delle imprese che fanno capo a una persona che hanno molto più potere dei governi di molti governi che poi i governi ci possono piacere o non piacere ma sono comunque espressione del popolo e quindi questa è una riflessione che dobbiamo fare quindi la paura che si perdano molti posti di lavoro la paura delle ricchezze la paura che scompaia la classe media cioè la classe a cui probabilmente apparteniamo tutti noi cioè io appartengo sicuramente alla classe media e il rischio che possa sparire la classe media in futuro e che quindi ci sia solo una classe superiore chiamiamola così che gestisce tutta questa questa intelligenza artificiale e sotto poi ci siano tutti quelli in qualche modo asserviti all'intelligenza artificiale questo rischio c'è poi il rischio che quello è davanti a tutti e che possa essere molto manipolata la realtà a un punto tale che l'uomo comune a cui come noi non siamo più in grado di ricostruire la realtà e quindi di avere un'idea con danni incalcolabili in questo caso anche qui la soluzione qual è adesso molti giuristi anzi i governi addirittura il prossimo G7 per esempio che si terrà in Italia è proprio dedicato all'intelligenza artificiale proprio per sottolineare quanto questo tema sia importante e delicato e andrà molto cioè andrà molto attenzionato perché comunque i pericoli ci sono poi sulla creatività per chiudere magari può anche essere diciamo può dare anche delle possibilità questo sicuramente però l'importante come minimo bisognerà saperlo in futuro bisognerà saperlo perché per dire quello che lei ha fatto la prima domanda che ha fatto che era uguale a quella che avrei fatto io è inquietante e la risposta che avrei dato io è anche abbastanza inquietante per cui diciamo che l'uomo dovrà capire come disciplinare sicuramente il problema lo dico in questo senso da un punto di vista legislativo e giuridico non è come oggi viene un po' posto che sembra quasi una problematica di diritto d'autore cioè come risolviamo il problema del diritto d'autore cioè viene come dire circoscritto in una cornice molto piccola io credo che l'intelligenza artificiale probabilmente in futuro dovrà avere una disciplina a livello di carta costituzionale perché riguarderà probabilmente tutti gli aspetti della vita dell'uomo e quindi dovrà proprio avere quel tipo di livello diciamo di disciplina legislativa ho ritrovato una vecchia dichiarazione di cui di fronte alla domanda che cos'è per lei la paura ha risposto di non lasciare un ricordo di me oggi cosa risponderebbe ma non risponderei più così devo dire onestamente lì forse ero ancora in una fase come dire oggi la paura è quella di non essere a posto con la propria coscienza cioè di non avere fatto il proprio dovere e per dovere si intende non il dovere grande che può essere quello di essersi comportati bene di aver fatto ma anche il dovere più piccolo cioè di essersi quotidianamente impegnato per far sì che anche le piccole cose il tuo rapporto col prossimo sia un rapporto giusto che tu non compia nessun atto di violenza piccola anche piccolissima nei confronti delle persone oggi credo che la mia paura sia questa di comportarmi da persona per bene Umberto ecco sul futuro ha detto mentire riguardo il futuro produce una storia chiaramente quando uno pensa alla politica è l'arte delle promesse invece lei in merito cosa risponde ma io a questa allora la frase è molto bella secondo me però si potrebbe anche dire in un altro modo si potrebbe dire che anche che essere sinceri e dire la verità rispetto al futuro produce la storia anche questo produce la storia e io preferisco questa seconda versione cioè io cerco di ispirare la mia azione ai principi dell'onestà e della correttezza e di mantenere il più possibile la schiena diritta di fronte a tutte le situazioni che di giorno in giorno mi ritrovo a dover affrontare senta qual è la cultura è una visione che guarda solo il passato ieri l'ex ministro Giovannini diceva perché non pensiamo a un museo del futuro esistono già a Dubai sì sì esistono un'esperienza del genere nel nostro paese come la vedrebbe ma potrebbe essere un'idea io credo che allora io uso c'è una frase che a me piace molto che tra l'altro verrà utilizzata dal commissario straordinario del Bucmesse che il Bucmesse è la più famosa fiera del libro a livello mondiale che si tiene a Francoforte e l'anno prossimo l'Italia sarà ospite d'onore di questo di questo grande evento e che l'ha intitolato le radici nel futuro ecco io credo che quella frase sintetizzi bene cioè il futuro ha un senso se noi partiamo dalle radici cioè ci portiamo le nostre radici non a caso noi ci dichiariamo adesso non voglio fare qua non voglio nessuna deriva politica diciamo però io credo molto nelle radici cioè credo molto nel legame con la propria terra da dove tu sei arrivato vedo anzi che molto spesso quando tu hai a che fare incontri delle personalità che nella vita hanno grande successo o comunque persone che ti trasmettono delle emozioni perché riconosci il loro valore quasi sempre hanno un legame fortissimo con le loro radici prima io ho citato Dario Fo e Dario Fo aveva un legame fortissimo con le sue radici con le sue radici che erano poi sul lago Maggiore Milano insomma aveva io ho sempre conosciuto tutte le persone diciamo più o meno grandi che ho conosciuto avevano sempre dei grandi legami diciamo con la propria terra col proprio passato quindi il futuro il museo del futuro è interessante se non diventa fantascienza secondo me se è un qualcosa che comunque cerca di elaborare una progettualità che comunque tiene conto delle radici perché secondo me perdere le radici non ci ancora il futuro un'ultima domanda prima di chiudere so che lei deve scappare perché deve raggiungere il Presidente della Repubblica a Venezia per la prima della Fenice se io volessi chiedere qual è per lei il colore del futuro che cosa mi risponderebbe? credo che risponderei come l'intelligenza artificiale che parte dal fatto che analizza tutto quello che è direi tricolore grazie grazie a lei grazie